buongiorno a tutti e benvenuti nella showroom di mini fattore che molti di voi già conoscono oggi vorrei parlarvi di flow pack mini fattore può darvi la soluzione anche per qualsiasi richiesta di macchine confezionatrici flow pack voi indicateci dimensioni del prodotto e velocità e noi vi consiglieremo al meglio sulla soluzione possibile in questo video volevo presentarvi la più piccola la mini flow 380 macchina ricca di accessori e sicuramente la più venduta vediamola nello specifico qui abbiamo la zona di carico completamente in acciaio inox adatta al contatto di prodotti alimentari i facchini messi alla distanza necessaria per il prodotto da confezionare inseriti a pressione con la possibilità di cambiare in funzione della lunghezza del prodotto il formato il bancale di carico in questo caso un metro e mezzo con la possibilità di inserire dei moltiplici di un metro qui sotto abbiamo le rotelle di saldatura longitudinale e le rotelle di trascinamento in questo caso sono due possono essere anche tre in funzione del modello della macchina mentre sotto questa copertura abbiamo la saldatura orizzontale tutte le confezionatrici flow pack di mini pattorre hanno degli accessori di serie da non sottovalutare la lettura tacche per l'utilizzo di film stampati qui abbiamo un nastro motorizzato di scarico di serie di 55 cm e PLC touchscreen a colori da 7 pollici che mi permette di inserire tutte le informazioni dettagliate e le ricette dei prodotti le confezionatrici flow pack vengono utilizzate per un'infinità di prodotti diversi spesso food ma anche progettistica varia in questo caso questo modello monta una bobina fino a 380 mm di larghezza e una fascia prodotto di 160 mm ha tre motori brushless e mi permette una velocità massima fino a 95 battute al minuto tutte le nostre confezionatrici flow pack a partire anche dalla più piccola hanno di serie il no product no bags bene siamo arrivati alla fine di questo video spero di avervi dato qualche informazione in più io oggi vi ho presentato la mini flow 380 la macchina più piccola la gamma è molto più ampia per qualsiasi richiesta voi abbiate per prodotti diversi dimensioni diversi velocità diverse non esitate a contattarci avremo la soluzione giusta per la vostra richiesta grazie a tutti grazie a tutti